Il mercato delle assicurazioni commercial line vale circa 8 billion in Italia ed è un mercato potenzialmente molto importante poiché è una categoria molto sottoassicurata e ovviamente ha una crescita in questo momento di copertura rischi molto elevata. Ciao, sono Vincenzo Macaione, founder e CEO di Wapta Assicurazioni. Come nasce Wapta? Wapta nasce a fine 2021 da una mia idea e poi viene supportata da altri manager del settore assicurativo, soprattutto da un'esigenza di mercato del nostro paese, ovvero il cluster su cui Wapta opera, commercial line, quindi artigiani e imprese. Il nostro paese è sottoassicurato e più del 70% delle PMI italiane non è assicurato sui prodotti assicurativi dedicati al property e al commercial line. Che cos'è Wapta? Wapta è un MGA, Insurtech, FIGITAL, ovvero una piattaforma tecnologica dedicata al mondo del commercial line, quindi con un target focus PMI, artigiani e professionisti, con anche una base fisica, ovvero un network commerciale distribuito su tutto il territorio italiano, che può supportare e assistere gli artigiani, i professionisti e le microimprese nella scelta giusta della propria copertura assicurativa. Anche perché dopo la pandemia e tutto quello che è accaduto negli ultimi due anni, il target dei professionisti e delle PMI ha avuto una grande percezione dei propri rischi e quindi in questo momento è molto importante andarli a coprire, soprattutto dopo una consapevolezza di quello che può accadere in momenti come un lockdown, piuttosto che un down di fatturato o addirittura una problematica nei propri locali, quindi un property, un incendio, un furto e quant'altro. Che servizi offrite? La Uopta fornisce servizi e prodotti dedicati al focus artigiani, professionisti e PMI. Questi servizi e questi prodotti servono per coprire tutta la gamba dei rischi di questa categoria, li fornisce attraverso una piattaforma digitale, quindi online, ma anche attraverso un canale fisico. Abbiamo introdotto il pagamento mensile di tutti i prodotti multi rischi, imprese, artigiano e persona. Abbiamo introdotto altri due bullet points molto importanti che oggi non esistono nel panorama assicurativo, ovvero in caso di infortunio e malattia, Uopta supporta e assiste il cliente pagando il premio assicurativo. E il terzo e ultimo punto, a mio avviso molto importante rispetto al mercato che stiamo vivendo in questo momento, è in caso di sinistro che possa impattare molto nell'operatività del cliente, Uopta regalerà il rinnovo della polizza il prossimo anno. Quali sono i vostri prossimi obiettivi? Il prossimo obiettivo di Uopta è completare il set portfolio prodotti. Noi siamo in una fase di setup di terzo livello, abbiamo fatto un pre-seed pochi mesi fa, quindi ha raccolto dei capitali per costruire la pipeline dei prodotti. Il nostro obiettivo è arrivare a giugno 2023 con tutta la gamma prodotti completa, compresa anche l'auto, e a quel punto poter creare anche un consolidamento sul mercato. Perché investire in Uopta? La Uopta intanto è una startup innovativa, ha raccolto in pre-seed, su ingresso sul mercato, circa 3 milioni di euro. È il pre-seed più importante nel settore InsurTech in Italia. Perché investire in Uopta? Uopta ha in questo momento una tecnologia molto avanzata in termini di selezione dei prodotti assicurativi. È un MGA, quindi una fabbrica prodotto assicurativa. E oggi in Italia il panorama InsurTech è più rivolto sui broker e soprattutto si rivolge in un mercato che ha un fortissimo upside in Italia.